Buonasera, un anno fa più o meno di questi giorni ci eravamo intrattenuti con totali addetti ai lavori calcistici, vale a dire Massimiliano Allegri, Dolcetti e Bacconi a discutere di dati applicati al calcio. Stasera è un piacere per me presentarvi e far salire sul palco Luca Papalardo e Paolo Cintia, ricercatori dell'Università di Pisa, esperti di dati e segnatevelo bene, protagonisti e autori di un blog che si chiama Big Data Tales, nel quale loro racconteranno tutto quello che stanno facendo sui dati applicati al calcio. Grazie mille, noi siamo come detto ricercatori del CNR dell'Università di Pisa e ci occupiamo di data science, in particolare negli ultimi mesi di data science applicata al calcio e allo sport in generale. Questo pallone che vedete qui non è un pallone tradizionale ma è un pallone tecnologico perché ha un sensore Bluetooth che comunica con questo tablet qua, quindi i dati che partono da quel pallone lì vengono qui e vengono analizzati da un'applicazione che calcola la velocità della palla, la velocità di rotazione, il punto di contatto, la traiettoria e tante altre caratteristiche che fino a qualche anno fa erano impossibili da misurare se non a occhio. Questo è un piccolo punto di vista su dove è arrivata la tecnologia nel calcio oggi. Noi oggi abbiamo un pallone che ci permette, come vedete qua dietro di me, di misurare tutte le sue caratteristiche e quindi di fornire ai calciatori, in questo caso, uno strumento per migliorarsi in modo, chiamiamolo intelligente o perlomeno in modo illuminato. E ieri siamo andati al CUS con la collaborazione dei ragazzi della squadra del CUS e abbiamo raccolto un po' di dati, quindi abbiamo utilizzato questo pallone tecnologico e l'applicazione sul tablet e abbiamo fatto tirare questi ragazzi un insieme di punizioni per capire se esisteva un pattern, una regola di successo nel tirare le punizioni. Quello che abbiamo scoperto è che chiaramente questi sono small data, non sono big data, però sembra che ci sia o che ci possa essere un piccolo pattern. In questo grafico abbiamo sulle X la velocità che ha preso la palla nel tiro, sulle Y abbiamo, sull'altro asse, la rotazione del pallone e come vedete c'è una piccola correlazione tra la velocità e la rotazione. Inoltre i ragazzi che sono riusciti a fare dei tiri che hanno sfiorato il gollo, sono andati in gol, un solo ragazzo ha segnato Francesco, hanno tirato in un modo molto particolare, in un particolare range di velocità e in una particolare range di rotazione in giri al minuto del pallone. L'idea è quella di estendere questo esperimento su larga scala per capire qual è rispetto a queste misure il modo ideale di tirare una punizione. Oggi chiaramente abbiamo a disposizione non solo i small data che abbiamo raccolto ma anche i big data, grazie a delle multinazionali come Opta che raccolgono durante le partite dei dati, dati che possono essere i movimenti dei cacciatori e degli arbitri sul campo di gioco o anche tutti gli eventi in modo dettagliato che avvengono sul campo di gioco. Utilizzando questi dati abbiamo scoperto che è possibile capire cosa fa sul campo di squadra, sul campo di gioco una squadra che vince e cosa invece fa o fa male una squadra di calcio che perde. Questo è un esempio dei dati che abbiamo, che Opta fornisce, quindi per ogni evento sul campo di gioco, esempio il take all, abbiamo quando è avvenuto questo take all, chi l'ha fatto contro chi l'ha fatto o il passaggio, chi l'ha fatto da quale posizione a quale posizione in modo da poter ricostruire un quadro completo di tutta la partita che hanno svolto le due squadre. E quello che abbiamo scoperto è qualcosa di abbastanza interessante. Quello che vedete qua dietro è un grafico che mette in relazione il numero medio di passaggi fatti da una squadra durante una stagione sportiva e i punti realizzati a fine campionato. Quindi come vedete la correlazione è alta, quindi il numero di passaggi correla con i punti fatti in classifica. Siamo partiti dai passaggi perché in una partita l'80% degli eventi che avvengono in campo sono passaggi, mentre lo 0,1% degli eventi sono i gol, quindi l'evento più raro è quello che decide la partita, ma di fatto l'evento più frequente è il passaggio. Quindi abbiamo cominciato a studiare questo evento qua e in particolare li abbiamo rappresentati come delle reti. Quella che vedete qui dietro è una rete che probabilmente molti di voi conosceranno perché è la rete dei passaggi della finale di Champions League, quindi ci spiegherà poi forse dopo come si costruisce una rete civile e come vedete noi abbiamo messo in evidenza come c'è un nodo centrale ben preciso, che è Andrea Pirlo, buonanima perché ora sei emigrato, mentre la rete successiva, quella del Barcellona, quindi quella della squadra avversaria, è un po' diversa, ovvero non c'è un nodo centrale ma ce ne sono vari equamente importanti. Quindi in un certo senso, anzi in un senso preciso, il gioco del Barcellona ha un volume più elevato ma anche un'entropia più elevata, cioè un'imprevedibilità più elevata. Sì, mentre il volume della Juventus veniva centrato principalmente in un calciatore, sembra che il Barcellona distribuisca il volume dei passaggi su un numero di calciatori maggiore ed è questo il motivo per cui abbiamo tante palle grosse in tutti i sensi in questa rete. Ora, a partire dai passaggi abbiamo detto ok, ma perché non estraiamo una misura magica di performance da questi dati che ci faccia capire perché una squadra è più forte di un'altra? Ed è proprio quello che abbiamo fatto in questo grafico nella misura H. La misura H che abbiamo escogitato riassume il comportamento dei passaggi di una particolare squadra in un certo insieme di partite. Allora abbiamo calcolato questa misura H per ogni squadra, per ogni partita, dalla prima partita di campionato fino all'ultimo. Questo è un esempio sul campionato tedesco e si vede chiaramente del 2013, questa è la stagione 2013-2014, si vede chiaramente come le prime due squadre, sia il Bayern e il Borussia Dortmund hanno una misura H molto più alta delle altre e questo pattern emerge molto presto nel campionato. Quindi già alla quinta, sesta partita è evidente che il Bayern e il Dortmund sarebbero state le due squadre più forti. Allora abbiamo detto ok, facciamo un ranking di tutte le squadre del 2013-2014, visto che avevamo quattro campionati, Spagna, Italia, Inghilterra e Germania, facciamo un ranking di tutte le squadre. La squadra più forte secondo la nostra misura è proprio il Real Madrid, che poi è quella che ha vinto la Champions League. Ma chi manca? Manca però la finalista di Champions League, che è l'Atletico Madrid, che è tredicesima, tra l'altro l'Atletico Madrid è vincitrice anche del campionato spagnolo, vedremo poi perché manca. Poi abbiamo il Bayern, il Baccellone, il Manchester, la Juventus, eccetera, eccetera. Quindi sembra che a questa misura colga abbastanza bene il successo di una squadra. La domanda è perché l'Atletico Madrid, come altre squadre, non emergono? In cosa sbaglia la nostra misura? Questo è un grafico che noi abbiamo nominato Dino Plot, in onore del professore Dino Predeschi che ce l'ha suggerita, che fa vedere perché una squadra vince rispetto alla misura H. Allora i pallini rossi che vedete in questo plot sono ad indicare tutte le volte che la squadra in casa ha vinto una partita. Sono medie su tutti i campionati. I triangoli ogni volta che la squadra di casa ha pareggiato, i quadrati neri ogni volta che la squadra di casa ha perso, quindi quando ha vinto la squadra fuori casa. E si vede chiaramente che la squadra in casa tende a vincere le partite quando la sua misura H, che è H home sulle X, tende a essere più alta, molto più alta di quella dell'avversario. Le due squadre pareggiano quando la loro misura H è molto simile, invece la squadra di casa perde quando la misura H della squadra fuori casa tende a essere un po' più alta. Allora abbiamo detto ok, perché non simuliamo un campionato? Quindi osserviamo una partita, osservando soltanto i passaggi, quindi escludendo i gol, escludendo i tiri in porte e tutti gli altri eventi, osserviamo la partita e da questa osservazione parziale decidiamo chi vince la partita. Vincerà la squadra che ha la misura H più alta o pareggeranno se questo range della differenza è nella scala grigia. E quindi abbiamo ricavato dei campionati simulati. Esatto, questo per esempio è il risultato del campionato tedesco, ovvero nella colonna di sinistra c'è il risultato della nostra simulazione e nella colonna di destra com'è andata veramente. E il risultato ha stupefatto anche noi perché è parecchio fedele, cioè il Bayern che vince il campionato addirittura con lo stesso numero di punti tra simulazione e classifica reale, ma ci sono degli errori. Tra questi il Borussia M, adesso non so pronunciarlo, i professionisti lo sanno e noi no, che nella nostra simulazione è sottostimato e questo vale anche per esempio per Atletico Madrid che come avete visto prima non era nelle migliori squadre europee ma di fatto lo è stata e allora ci siamo chiesti ma cosa c'è, come possiamo spiegare questo errore? E allora ci siamo rivolti a un grande filosofo, scienziato, cantautore che ha segnato la nostra gioventù che è Max Pezzali, che fece il famoso album La Dura Legge del Gol. Perché La Dura Legge del Gol esiste, cioè si può scrivere in termini di, con una semplice espressione e semplicemente confronta la differenza, cioè l'efficienza in attacco di una squadra sulla sua efficienza in difesa e quella dell'avversario. Di fatto noi siamo riusciti con questo numerino a capire se una squadra si comporta come una squadra di pezzali. La squadra di pezzali sono di due tipi, una quella che fa un gran bel gioco però se non ha difesa gli altri segnano e poi vincono, l'altra loro stanno in chiusi ma alla prima opportunità salgono subito e la buttano dentro a noi. Questa misura che è nata per gioco in realtà abbiamo scoperto che è una misura molto seria che ci aiutava veramente a capire perché l'Atletico Madrid, il Borussia M e altre squadre non erano catturate dai nostri modelli. Il motivo è proprio questo, quando una squadra ha un pezzali molto basso o un pezzali molto alto, agli estremi di questo plot, il ranking error, ossia la differenza dalla classifica simulata e quella reale, è molto alto o molto basso. Quindi il Borussia M fa poco gioco a livello di passaggi, quindi non basa la sua strategia di gioco sui passaggi, però è molto spietata, quindi è una squadra che impone la dura legge del gol. Al contrario il Betis che invece fa un grande volume di gioco, essendo una squadra spagnola, però subisce la dura legge del gol di pezzali ed è questo il motivo per cui la nostra misura H non era in grado. Emerge però una zona di successo, come era quella delle punizioni, emerge anche qui, che è la zona in cui il pezzali è un po' più alto della media e dove ci sono la maggior parte delle squadre che hanno poi raggiunto la Champions League. Quindi insomma qual è il take home message, come lo chiamano? Cosa vogliamo studiare e cosa si studierà nel calcio? Ci sono ancora un sacco di problemi aperti, ma noi puntiamo in alto, noi puntiamo a svelare il grande mistero, che non è appunto prevedere le partite come abbiamo fatto con questi due tweet, dove avevamo previsto la sera prima che Barcellona-Juventus sarebbe finita 2-1, in realtà ci siamo sbagliati di poco, oppure avevamo previsto Germania e Argentina le finaliste, ma noi vogliamo svelare un mistero ancora più grande. Che sarà, immagino, intendi, come fare a segnare una punizione? No, ancora di più. Come fare, non so, a segnare un rigore? No, no, neanche, ancora di più, c'è di più da spiegare. Come acquistare il giocatore ideale? Dobbiamo usare la matematica per cose più ambiziose. E allora dicelo te. Noi vogliamo sapere, ma quanti sculetti ha alla fine la Juventus? Non so se la Data Science riuscirà. Lo chiediamo ora. Comunque, seguiteci sul nostro blog, che è Big Data Tales, dove raccontiamo le avventure nei dati, non solo nel calcio, ma anche nel ciclismo, nella mobilità umana, nelle reti sociali. E seguite anche il silo del nostro laboratorio, il KDD Lab del CNR dell'Università di Pisa. E tra poco, magari l'anno prossimo verremo a spiegarlo, uscirà un altro nostro articolo che spiega come valutare un calciatore attraverso questi dati di Opta. Quindi magari l'anno prossimo verremo a raccontare questa nuova storia. Grazie a tutti. Grazie.